Il presidente Mastonati 3-0 contro Vischia, insomma con quasi tutti i due piedi si rimane in Liga Pro. Diciamo che noi l'anno scorso l'abbiamo guadagnata così per il rotto della cuffia, quest'anno ce la siamo guadagnata sul campo, quindi questa è la vera promozione del Monocchio, sono molto soddisfatto per quello che ha fatto la squadra, lo staff tecnico, la società, tutta quanta. Ringraziamento anche a questi magnifici tifosi che hanno raggiunto Vischia, ma è tutti coloro che hanno sofferto da monopoli in diretta televisiva. Sì, è chiaro, i ragazzi che ho visto, i tifosi sono stati veramente impeccabili, hanno sostenuto la squadra quando era necessario e alla fine hanno festeggiato come era giusto perché il risultato che abbiamo ottenuto oggi è veramente un risultato importante. Ecco, il risultato straordinario, la società insieme allo staff tecnico, al vecchio allenatore, al nuovo, sono tutti quanti, hanno lavorato per raggiungere questo obiettivo, alla fine era un obiettivo quasi promozione e invece la salvezza ha rappresentato un grosso traguardo. È un grosso traguardo, dovete tener conto di tanti fattori e la cosa bella è che ce la del favore di alcuno, sportivamente e solo con le nostre forze ci stiamo riuscendo. Attenzione, ancora non è finita perché abbiamo il ritorno. Ecco, invitiamo appunto la festa sabato prossimo alle 14 tutti i tifosi. Avete già organizzato? No, no, non abbiamo organizzato, ci sarà la festa per sabato prossimo. Ah, ho capito, martedì, sabato prossimo sicuramente, ecco, festeggeremo, cercheremo di festeggiare e veramente questa è la promozione Liga Pro.